È stata allestita stamattina a Palazzo Barbieri la camera ardente per il senatore e assessore di Verona ai servizi sociali Stefano Bertacco, deceduto domenica a pomeriggio dopo una lunga battaglia contro il cancro. Vicino al feretro una corona di fiori da parte del comune di Verona. La camera resterà aperta fino alle 18 per tutti nella giornata di oggi e resterà aperta anche domani mattina. I funerali si terranno domani a San Zeno alle 15 e 30 sul Sagrato della Basilica. Familiari, amici e cittadini potranno così partecipare dalla piazza. Le bandiere del comune saranno a mezz'asta e sarà proclamato il lutto cittadino.